Il corso Personal Branding, creare la propria efficace digital presence con LinkedIn, offre gli strumenti per costruire una presenza professionale solida e strategica su LinkedIn. In un contesto dove relazioni e opportunità si sviluppano sempre più online, questo corso guida a comprendere l'importanza del Personal Branding e a sfruttare LinkedIn per obiettivi chiave come attrarre nuovi clienti, rafforzare le relazioni professionali e accrescere reputazione e autorevolezza. Attraverso best practice e strategie efficaci, consente di ottenere risultati concreti, potenziando la propria visibilità e influenza nel panorama digitale. Puoi scegliere se seguire il corso in modalità interaziendale nelle date programmate, oppure organizzarlo presso la tua azienda, personalizzandolo sulle tue esigenze. Entrambe le modalità possono essere finanziate con fondi impresa o fondi dirigenti.